Un cordiale saluto ben ritrovati all'appuntamento col medio di Team 6 insiste un flusso molto freddo proveniente dai Balcani sulla nostra penisola soprattutto sul lato Adriatico nel corso di questo mercoledì apporterà un ulteriore carico di umidità e instabilità che potrebbe quindi generare delle nevicate un pochino più consistenti rispetto agli ultimi giorni anche a bassissima quota e lungo le coste del medio Adriatico sempre sereno invece al nord sul medio alto tirreno protetto dalle barriere montuose. In Abruzzo una giornata complessivamente instabile quindi rispetto agli ultimi giorni avremo una maggior possibilità di nevicate soprattutto nella seconda parte della giornata avremo delle precipitazioni sparse nevose anche sulle coste quote pianeggianti nevicate un po più consistenti in appennino quindi oltre i 500 700 metri di altitudine nevicate che potrebbero quindi generare qualche accumulo nevoso di diversi centimetri ovviamente possibilità di accumuli minori alle basse quote. Le temperature restano molto bassi ovunque le massi vedono oltre i 4-5 gradi minimi attorno allo zero anche molto al di sotto nelle aree interne e in montagna. Con questo concluso noi ci rivediamo nel prossimo aggiornamento.